cosa significa innovare veramente un tema molto complicato per noi significa praticamente non andare a riscaldare delle minestre per cercare in qualche modo di riproporre dei prodotti simili magari a quelli che fanno le grandi aziende grandi competitor penso che questa sia una ricetta anche fondamentale per quelle che sono le start up le piccole le medie imprese andare in alcuni casi controcorrente perché se vogliamo ripercorrere quella che è la strada fatta dalle grandi aziende diventa veramente molto molto difficile riuscire dal punto di vista commerciale ad essere competitivi